Eccoci qua. Sono Gula Mario. Allora, questo è il mio canale di oggi. Oggi è il 30. Io ieri sono tornato a vacanze. Allora sono andato a Borono 15 giorni e 16 giorni a Borono con i miei nonni e poi ero andato a Porta di Legno con i miei genitori e fare una passeggiata con la bicicletta e soprattutto sono andato al mare con tre ragazzi Pacetto e Girelli e soprattutto anche la mia sorella Giulia e Mario e la Martina. Questo filmato voglio dire finite le vacanze entriamo a scuola a settembre il giorno del mio coperano e è proprio il 14 di settembre. Finite le vacanze, torniamo a casa, torniamo a scuola per tutti e soprattutto distanze, mascherina e guanti. Non possiamo fare festa a scuola, ecco, soprattutto, ma siamo qua per dire buon rientro a scuola.